Radiosistemi, quadricottero X20 4K pronto all'uso, può essere controllato dall'app del telefono, a ritorno automatico, la telecamera con escursione di 90 gradi e la fotocamera grandangolare con escursione di 120 gradi in HD, motori brushless di alta qualità. Asegava, kit statico in scala 1 a 24, Porsche 962C Shell. Italeri, kit statico in scala 1 a 72, EF2000 Typhoon. Revell, kit statico in scala 1 a 72, Eurofighter 2020 Quadriga. Kit statico in scala 1 a 144, Boeing 767-300ER della British Airways. Kit statico in scala 1 a 24, Volkswagen T1 versione DQ. SkyRC, termometro digitale ad infrarossi. Amia, detergente per policarbonato. Mini 4WD, classic Tune-up part set volume 1 e volume 2. Nuovo modello Ele Glitter con telaio WS. suo, cinese di gara. Grazie a tutti.